Ci sono le famiglie dei bambini ricoverati presso di noi, ricoverati in altri ospedali, ma anche le famiglie che hanno bambini sani, che non hanno per ora nessuna malattia. Questo è un messaggio per tutti, perché la malattia può toccare tutti e quello che questo documentario presenta è che la malattia si possa operare affidandosi a strutture serie, preparate, con grandi professionisti. Si può dare dotandosi di coraggio e pensando che è un grande ostacolo, ma è superabile. Si deve qualche volta anche dire alle famiglie che non tutte le storie finiscono bene, bisogna accompagnarle in questo, ma solo nell'ultimo tratto, prima incominciare con un percorso di grande speranza. E per chi ha un figlio improvvisamente scopre che questo figlio è ammalato, questo vuole dire non fatevi spaventare subito, sappiate che si può curare, sappiate che si può guarire. Noi facciamo un'operazione di verità, un ospedale vero, quotidiano, che si rivede così com'è, senza finzioni, senza nessuno che fa l'attore e credo che all'ospedale questo sia anche un coraggio di essere sempre più vero e di essere sempre più solido.